Andrea Sciarretta, il papà della piccola Noemi, la bambina di Guardia Grele affetta da una gravissima patologia, rivolge un appello ai candidati presidenti della regione Abruzzo affinché non dimentichino chi soffre ed affronta quotidianamente le difficoltà legate alla disabilità. Ha voluto coinvolgere quattro candidati presidenti per chiedere cosa? Allora, chi è affetto da disabilità non ha bisogno di compassione ma di attenzione. Ovviamente bisogna intervenire su due aspetti fondamentali che sono la sanità e il sociale. La sanità rendere un'assistenza efficace a favore della disabilità perché al momento non esistono figure specialistiche a domicilio in grado di gestire PEG, ventilazione non invasiva, trachio e ovviamente tutto il carico assistenziale ricade esclusivamente sulla famiglia. Non esistono ad oggi tutele per la famiglia quindi ovviamente bisogna intervenire anche sul sociale. Il sociale perché? Perché se si è fortunati l'assistenza domiciliare sono 5-6 ore al giorno. Il sabato viene ridotta, la domenica è inesistente. Quindi tutte le ore ricadono esclusivamente sulla famiglia che si sente schiacciata da questa disabilità. Ho letto, ha aggiunto ancora Sciarretta, l'appello rivolto al Ministro della Salute Giulia Grillo da Paola Mastrangelo, la giornalista e docente d'inglese pescarese, insieme a Davide Andrea Zicchieri, presidente dell'associazione ConSlancio, entrambi malati di SLA per chiedere un'adeguata assistenza. Sì, noi tramite l'associazione Progetto Noemi Ollus noi rappresentiamo le patologie pediatriche gravi. Ovviamente ci sono patologie afferenti alla SMA 1 che è la SLA perché sono entrambi neurodegenerative, neuromuscolari, vanno comunque a togliere tutte le forze vitali come la deglutizione, la respirazione e sono pazienti elettati H24. Ovviamente lì il carico non può essere solo della famiglia, penso che non sia un intervento incivile da parte di uno Stato che comunque deve prendersi carico di chi ha delle fragilità, ma soprattutto il mondo scientifico ha sempre appurato che questi pazienti devono essere curati a domicilio. Mastrangelo e Zicchieri hanno rivolto questa lettera al Ministro, lei pensa che qualcosa si possa fare? Tutto si può fare, basta che ce ne sia la volontà. Nel momento in cui c'è la volontà di fare si può dare realmente una risposta alla disabilità che, rimarco, la disabilità non chiede compassione ma attenzione concreta.